Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato. Presidente, lei è la prima donna della Repubblica a ricoprire il ruolo di seconda carica dello Stato. Una forte emozione. Sì, devo dire che è una grande emozione, un grande onore e una grande responsabilità. Questa mattina mi ha regalato una delle giornate più importanti del tutto il mio percorso professionale e politico. E spero di svolgere al meglio questo incarico per il nostro paese. Che cosa vuole dire la Presidente Alberti Casellati agli italiani? Voglio dire che il momento è un momento storico molto difficile, ma io credo che con l'aiuto di tutti, di tutta la rappresentanza che c'è in Senato, noi penso che potremmo dare delle risposte, tutte quelle risposte che il nostro paese attende. Gli assi portanti della sua presidenza? Un po', diciamo, questa mattina ho tratteggiato quello che ritengo essere un po' il percorso che intendo fare, perché il quadro politico è un quadro che si è anche evoluto e che è cambiato totalmente e c'è bisogno di ritornare a portare il nostro paese ad una svolta di carattere economico, abbiamo bisogno di ritornare protagonisti in Europa, abbiamo bisogno di dare una speranza ai nostri giovani e a tutte le persone che oggi si trovano in un forte disagio anche di carattere sociale. Noi ce la mettiamo tutta, io ce la metto tutta. Presidente Alberti Caselati, lei oggi nel suo intervento inaugurale ha rivolto un caloroso saluto al Capo dello Stato. Ma questo significa che il Capo dello Stato è la nostra figura di riferimento e quindi lo sarà in tutto il mio percorso.